Sperate che la giunta al Senato dovrà votare a Muglio l'inergibilità di Berlusconi? Riuscirete a prendere a trovare qualcuno del partito democratico che la vota insieme a voi? La questione non è speriamo, la questione è legale. Cioè c'è una legge? Io la voterei io. Gli altri dovrebbero anche votare, se rispettano che rispettano la legge dovrebbero votare. Perché si perde la faccia del PD se vota contro? Perché ha ancora una faccia del PD? So vent'anni che la vota contro l'inergibilità. Oggi avete votato insieme sul decreto per la disoccupazione dei giovani. Però parliamo di OGM. Oggi il tema è no agli OGM. Tuteliamo la biodiversità e i prodotti italiani. La domanda era sulla disoccupazione dei giovani, dato che mi sembra che ci sia stata una... che sono stata una disoccupazione dei giovani.